Ricominciano i viaggi di UDEM nelle feste democratiche. Questa volta siamo a Reggio Emilia, dove l'ospite d'onore per la serata è il segretario del PD, Pierluigi Bersani. Sai che c'è Bersani questa sera qui che fa un dibattito? Sì, sì. Se lo incontrassi fra gli stand, che augurio gli farebbe? Buon lavoro. Gli direi ciao. Lo saluto e vado a mangiare e basta. Il tasso di combattività che c'è nel PD secondo lui. Forza e coraggio. Cosa pensa di fare con questa manovra? Fa svegliare gli italiani. Ma su serio, su serio. Grazie. Nella cittadella democratica il segretario non si è fatto mancare il tradizionale giro per i tantissimi stand e ristoranti. Per salutare e ringraziare la vera forza motrice di ogni festa, i volontari. Persone di ogni età, genere ed estrazione sociale, accomunati da una stessa passione, per la buona politica e il buon cibo. Solo grazie al loro lavoro ogni festa democratica è unica. La serata è poi proseguita nella sala di battiti dove il giornalista Rai Maurizio Mannoni ha intervistato Bersani sulla difficile situazione politica ed economica del nostro paese. E proprio da Reggio, patria del tricolore, arriva la stoccata del segretario alla manovra economica del governo, che vuole cancellare anche le feste civili, come quella del 25 aprile. Un paese che calpesta il 25 aprile e lo cancella è un paese che non può avere un futuro, non può avere un futuro. Abbiamo visto nelle celebrazioni del 150esimo che cosa significa che energia può dare anche moralmente, civilmente, il fatto di trovarsi raccordati attorno al simbolo dell'unità e a quello della Costituzione. Non abbiamo altro patrimonio in questo paese, che si voglia buttare via anche questo, mi pare francamente demenziale. Quindi noi siamo assolutamente contrari e su questo ci faremo sentire. Ci sarebbe un risparmio economico su questo? Ha detto Tremonti alla domanda nostra, dice ma che risparmio c'è? Dice dobbiamo ancora fare i conti. Non lo so, c'è da ridere per non piangere.